la mia sorellina mi ha detto che c'è troppo da studiare se vuoi fare l'astronauta devi studiare tanto e tanto e tanto e ma se vuoi fare il pompiere devi studiare tanto e tanto e ma se vuoi fare la maestra cosa c'è maestro? Lulù guarda ci sono i bambini ci sentiamo stasera ti chiamo chiamami tu ciao 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 bambini Lulù però sempre al telefono sempre al telefono si parla meno male che si parla ma si si quello si quello si no perché stavo dicendo alla mia amichetta noi abbiamo il sogno di fare le cose da grande ad esempio io voglio fare da grande voglio fare l'attrice l'attrice che bel lavoro cioè la mia amichetta che vuole fare invece l'astronauta però non vuole studiare ma io glielo ho detto bisogna studiare eh sì bisogna studiare tanto tantissimo tu cosa vuoi fare da grande? io voglio fare da grande il mago ma va eh sì 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 ma guarda e vuole sempre la mia sorellina arrabbiatissima perché? e ti spiego praticamente lei deve decidere cosa fare dopo la terza media sì e lei vuole fare una scuola ma papà e mamma dicono no fai quell'altro perché così da grande i lavori e lei è arrabbiatissima allora sente mi aiutare a rete i genitori o invece quello che sogniamo noi? io penso che bisogna sempre sentire il proprio cuore ovvero se avete dei sogni nel cassetto aprite il cassetto e fate quello che vi piace di più eh sì perché i genitori gli vogliono fare un liceo ma lei invece vuole fare la scuola per diventare sociologona sociologa esatto ah sociologa e loro dicono di no cosa gli consigliamo alla mia sorellina? beh io consiglio alla tua sorellina di fare la scuola che preferisce di più bravo bravo è quello che gli ho detto io papà e mamma sono arrabbiatissime ma ti è capitato a te quando eri bimbo che volevi fare una scuola e papà e mamma ti hanno obbligato a fare altro? beh sì diciamo che mi hanno obbligato a fare altro ma comunque ho sempre sono sempre arrivato al mio obiettivo ovvero quello di fare il mago bellissimo anzi anzi ti faccio vedere una cosa voglio sì voglio raccontarti diciamo un po' la mia storia sì di come ho scelto questo lavoro tramite un gioco di magia sì allora guarda Lulu qui ho una busta una busta che metterò qui davanti a tutti voi in questa busta c'è una previsione sai che cosa significa previsione? no eh non è la previsione del tempo ma è un qualcosa che accadrà tra poco e io già so cosa succederà eh cosa succederà? sì poi ti mostro questo Lulu questo è il mio vecchio album da disegno io da bambino non sapevo bene disegnare però ho messo qui sopra tanti e tanti mestieri tutti quelli che io ho visto in tv li ho disegnati qui sopra ma io non ero proprio bravo a disegnare li ho fatti rifare eh e infatti ti mostro il primo lavoro che ho visto fare in tv il cuoco oh il cuocone quello che cucina le pappe buone bravissima infatti mi piaceva vedere fare il cuoco perché si cucinava tanto tanto bene poi un altro mestiere che ho visto era il pittore in questo caso una pittrice eh sì perché perché è bello viaggiare con i colori si possono immortalare tantissimi bei momenti sì poi ho visto fare il dottore in questo caso una dottoressa che sembra un po' cleopatra con questi capelli molto ricci sì 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 il dottore perché è un bel mestiere perché salva anche le vite umane quando uno sta male chiama il dottore sì poi ho visto fare il pompiere eh eh il secolo della meccato mio bravissima bravissima sicuramente il pompiere è un bellissimo mestiere perché è un eroe esatto si butta nelle fiamme è pericolosissimo e sono bravissimi eh sì eh sì poi ho visto fare anche quest'altro oh il contadino ma quanti mestieri hai? no io ne ho visti tantissimi poi tra questi ne ho scelti uno e il contadino è bello perché sta in mezzo alla natura insieme a tanti animali sì poi ho visto fare il giocatore di football americano mi piace il mio fratellino ah benissimo perché si sta sempre allenati poi c'è un altro mestiere che ho visto fare che è l'idraulico sì è importante non c'è mai quando hai bisogno bravissima bravissima la mamma lo dice sempre ma poi ho visto fare anche il poliziotto sì bravi bravi in questo caso la poliziotta sì sì oppure il piccolo chimico anzi lo scienziato pazzo diciamo così sì mi piace perché guarda con è matto è con questi capelli un po' appunto è proprio è matto matto ma alla fine di tutto c'è anche il saldatore sì e secondo te qual è l'ultimo mestiere che ho disegnato qui sopra? il ladro il ladro? e non lo so no ultimamente fanno tutti quel lavoro ma no 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 e lo fanno tutti no Lulù e lì che ruba di qua che ruba di là è un mestiere ma non è un mestiere il ladro ma vabbè un po' di confusione non lo so l'ultimo mestiere che ho disegnato è il mago aaaah e infatti è il mestiere che proprio ho scelto da quando ero bambino sì perché è bello guarda voglio fare proprio un gioco con questo qui ti ho detto prima che c'è una previsione cosa dovrai fare Lulù? tu dovrai semplicemente aprire una pagina una pagina a caso non c'è il tete tete? no non c'è il tete tete Lulù apri una pagina una pagina a casa eccola qua Lulù tu ti sei fermata su un mestiere bellissimo che è quello che vuole fare tuo fratello il pompiere il pompiere sì allora Lulù io so con certezza che tu avresti scelto proprio il pompiere sai come so questa cosa? dove c'ho? perché guarda all'interno della mia busta c'è un disegno e secondo te che disegno c'è? non mi direi che c'è il pompiere c'è proprio il pompiere lo stesso mestiere che hai scelto tu e che sceglierà tuo fratello ma che macchie è bello bellissimo lo sai che ci sono due ospiti importanti oggi? veramente? due interrogazioni due campanella via ma li aspettiamo questi ospiti allora ci 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 con pennella ciao bambini ciao 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 hai visto che ci è venuto a trovare? sì sono felice perché vuol dire che è rimasto tanto 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 bene allora lo presentiamo subito pensa addirittura che ieri stava a Rai 2 eh? da Giancarlo Magalli hai fatti i vostri ah l'hai visto? sì 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 come stai? stai tutto bene? ma ancora non lo presento già ci parli fammelo presentare sì bambini il grande Teddy Reno eccolo qua ciao ciao un applauso a Teddy Reno un applauso bravi come stai Teddy? c'è tutto bene? ma ti dirò che per i 90 anni che sto per compiere sto abbastanza bene devo dire però mi porto dietro sempre un un infermiere un badante così che è molto riservato eccomi eccomi abbiamo l'infermiere aspetta devo vedere la pressione vediamo cosa sta facendo? eh sta misurando la pressione è piatto è piatto? e per forza l'hai messo sopra la giacca dovevi togliere vabbè andiamo beh dopo dopo partiamo male partiamo male sai che la mia nonna ce l'ha un badanti ma un po' più intelligente di quello comunque vabbè senti allora io ho saputo che compie gli anni quest'anno eh sì dimmi caro 90 anni no ne fa di meno hai sbagliato 90 anni li compio fra tre mesi cioè l'11 luglio compio i primi 90 anni però devo aggiungere siccome mancano tre mesi a Dio piacendo a Dio piacendo ma mamma cosa vuol dire a Dio piacendo? eh lo sappiamo noi ma vorrà 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 no ma poi Lulù mi porta fortuna fino ai 90 ci arrivo magari no lo stiamo perdendo lo stiamo perdendo come lo stiamo perdendo no sta ancora normale è proprio non ci sta colato hai visto una persona tranquilla oggi non abbiamo il maestro Angelo abbiamo quest'altro individuo bellico ma allora praticamente farei una mega festa so a pescare non solo per i tuoi 90 anni eh guarda per i miei 90 anni ehm siccome amo molto l'Abruzzo sinceramente mi trovo benissimo qui anche perché c'ho una mulettina piccolina eh graziosa sposata con me da 50 anni che in questo momento trionfa e balla dalla mattina alla sera balla così io sono scappato di casa sì perché ballava troppo ballava troppo è la grande tra virgolette Rita Pavone Rita Pavone grande grande perché tra virgolette eh perché è un pochino bassina però cantando con le stelle tutto pepe tutto pepe è bene va bene però però senti allora allora innanzitutto io so che voi avete scritto una canzone per un tour che poi poi raccontiamo vero maestro è certo dopo ci racconterà ci racconterà dove quando a chi perché come stai aspetta fai controllare oddio oddio ma oggi ma non si fa così eh infatti grida troppo eh sì allora vogliamo vedere il video regia perché questo è un video allora vediamo intanto il video prima che che l'infermiere si abbiocchi vediamo vabbè vediamo 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 abbioccare questa è una canzone inedita e con l'infermi dal sentimento che provo e che vincerà tutto perdonerai pensando e ripensando voglio diverti sperando che non può morire mai avrò leggerezza dei tuoi baci in questo amore per questo amore l'amore non è non è non è bene complimenti non è chi è dove quando chi è no 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 non è successo niente mi spaventa sempre comunque complimenti Teddy anche a Silvia Pagni e Elisa Recitelli allora guarda io ho formato un trio tregenerazionale perché io 90 poi c'è una bellissima ragazza ma veramente bella di 20 anni e poi c'è invece la mamma cioè la ragazza si chiama Elisa Ricitelli e la mamma invece che suona anche il pianoforte scuola suona la pisa armonica è una grande musicista e chi più ne ha più ne metta ha circa 40 anni allora sono tre generazioni che devono piacere a tutti agli anziani agli adulti agli giovanissimi e devo dire ma che bella pensata è bella sono proprio contento perché ho visto ho visto che ci sono anche dei giovani che la ballano pure penso un po' ricordiamo Teddy che partirà il tour proprio il 16 aprile a Chieti a Chieti a Chieti eccola qui ecco l'immagine del teatro super cinema super cinema di Chieti di Chieti il sabato quindi non questo sabato il prossimo sabato il 16 aprile che bello che bello io lo so che sono sono già tanti che hanno preso i biglietti sono contenta sì sì speriamo di riuscire a contenerli tutti al teatro super cinema mi hanno detto che è un teatro grande quindi sì molto grande lo conosco ci ha lavorato Lulù ma ci andiamo pure noi al compleanno di Teddy a luglio l'andiamo a trovare che è successo ma allora siamo proprio male siamo rovinati ti ringrazio poi ci verrai a trovare per raccontarci come è andata a Chieti si chiama Chieti allora vedrai che quando vieni anche tu ti racconterò tutta una lunga storia che comincia di carattere artistico la mia modesta vita artistica partita 72 anni fa e in pieno corso verso i 90 anni e vai grazie Teddy scusa una domanda ma quando eri piccolo che favole ti piacevano? non te ne piaceva una in particolare? no direi adesso non me le ricordo veramente perché sono passati i 90 anni ma te ne le dicevano? eh vabbè non me la ricordo in questo momento è bene allora la lanciamo non c'è perché penso solo a te allora mi dimentico la chiama hai capito? allora bambini salutiamo il grande Teddy Reno e ricordiamo ancora a Chieti sabato 16 aprile a Chieti presso il Super Cinema ok? ciao ciao Teddy Reno andiamo 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 ciao 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 vieni tu al compleanno ciao ciao bambini ciao Lulù ciao 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 come stai amore mio? è abbastanza bene insomma si tira avanti è lo stress della scuola sai quando sta finendo la scuola c'è uno stress che vuoi anche io ho un po' di stress oggi ho uno stress qui al collo che non mi posso muovere ne può succedere io ho lo stress dei giochi perché noi all'asilo giochiamo così tanto ti segniamo tanto e poi siamo stressati ma anche io vorrei tanto avere lo stress del gioco invece oggi per toglierti un pochino di stress ho una bella favola e chiedo al maestro mago di darmi una mano certamente e allora partiamo subito la favola si intitola la volpe e la pantera al di là di un boschetto di frassini profumati vi era un bellissimo laghetto dalle acque limpide cristalline davanti al quale due giovani animali accarezzati da un lieve venticello primaverile si stavano specchiando rimirando ciascuno il proprio portamento fiero e il colore del pelo si trattava di una graziosa pantera e di una volpe ugualmente carina vuoi mettere la mia figura con la tua? disse la pantera l'amica tu sei goffa e piccola io invece sono snella slanciata e flessuosa il mio portamento è tale che perfino gli uomini usano il mio nome per indicare certe donne dal fascino aggressivo la volpe dopo aver ascoltato in silenzio rispose io sarò forse meno bella e più piccola ma sono comunque più piacente e più simpatica e poi il mio pelo è senza dubbio più folto e più caldo del tuo a proposito di donne e se tu andassi in città vedresti quante signore si fanno belle indossando la mia pelliccia morbida a volte rossa e a volte argentata sempre più altezzosa la pantera ribatte in quanto al pelo sì è vero il mio è più corto ma è più lucido e splendente inoltre nella mia famiglia c'è da sbizzarrirsi nella scelta dei colori so di non peccare di vanità dicendo di essere molto più bella di te solo in quel momento la volpe si rese conto di essere stata al gioco di quella frivola compagna la quale badava solamente al proprio aspetto fisico e così concluse cara amica sicuramente tu sei ammirata da tutti per la tua bellezza esteriore io invece sono molto più appreziata per la mia intelligenza e la mia furbrizia ti assicuro che queste sono le doti più importanti e non le scamberei mai con qualità puramente estetiche a quelle parole la pantera non fu in grado di ribattere e non le rimase altro che tacere di fronte all'evidenza dei fatti la morale cara Lulù è questa l'intelligenza e la bontà sono doti interiori molto più apprezzabili della bellezza fisica non mi è piaciuta devo dire la verità neanche a me non mi è piaciuta perché va bene dell'intelligenza ma le pellicce devono stare attaccate i miei amichetti animali ma chi l'ha scritta questa favola esopo e vabbè erano tempi indietro non capiva l'importanza perché le donne sono belle e semplici senza la pelliccia la pelliccia degli animali giusto Lulù è vero infatti molte volte basta una semplice maglia anche fatta a pelo però è molto più salutare è molto più bella e soprattutto anche gli animali sono più belli con le loro pellicce è vero Lulù? esatto quindi no no pellicce no no pellicce ciao 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 non mi è piaciuta proprio no no ciao ciao bambini ciao ragazzi scusate maestro un attimino che sono al telefono allora ti stavo dicendo mamma c'è lui è il regista è quello del film che hai visto tu che ci siamo divertiti tanto e tanto è sì è quel regista che fa i film anche adatti per i bimbi è e sì senza parolacci senza cose scorse è giusto lo presento io sì sì ciao mamma bacio allora pronto è la mia mamma va bene va bene va bene cosa c'è te è la regia non era tua mamma dai presentiamo presentiamo questo amico dai c'è un bimbo e c'ha c'ha non lo so quanti anni c'ha è grande fidanzato non lo so se è fidanzato ok poi c'ha i capelli in testa secondo te sì comunque lo presento così come si dice amblo amblo no 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 amblé amblé vabbè e bimbi c'è Pierluigi di 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 che bella che sei bisogna battere cinque non la finiamo lei ha tre anni ha tre anni allora così lo presenti il nostro amico è un amico lo presenta così ma lo sai l'ultimo suo film sta tuttora su sky lo so perché l'ho visto con la mamma e le mie tre sorelle ti ricordi allora ti spiego io sono lulù poi c'è l'allà che è la più grande i miei due fratelli lulù e lelè grande famiglia non ne usciamo vivi oggi non ne usciamo vivi allora ricordiamo il film dove lui è regista si è stata regista c'è quella bella bella quella bella quella che piace anche a me Serena Autieri ma si è Adriano Giannini Maurizio Mattioli a chi non piace a chi non piace ma il titolo vogliamo ricordare Ambo andate su sky ma lo sai che io l'ho vista a un paese ma come la pronunci tu Ambo luluno grazie grazie allora io l'ho vista a un paese nell'Ecchettino dopo che ha avuto un grande successo e io che ho tre anni con altri bimbi di cinque o sei anni l'abbiamo visto e abbiamo capito tutto tutto perché è stato molto bello complimenti veramente a Pierluigi lo faccio qui davanti proprio alle telecamere perché lo sai che Pierluigi è uno dei pochi registri che fa vedere veramente l'Abruzzo questa è una cosa bella abbiamo visto abbiamo visto delle immagini dell'Abruzzo spettacolari è bellissimo questi occhiali dicono che sembra un po' cretino però paziente sono uguali i tuoi io l'ho pensato tu l'hai detto ma nei bambini diciamo la verità però è un cretino che piace mi piace molto non lo so su questo comunque dobbiamo fare tante belle domande mi stanno mettendo in mezzo comunque tu sai che Lulù è testarda sì ma in questo mondo nel tuo mondo nel nostro mondo ci vuole tanto tanta testardaggine per andare avanti sì entriamo proprio nelle ci vuole la tenacia ci vuole bisogna essere caparmi in tante cose ma bisogna anche studiare tanto ah beh allora studiare io non mi piace tanto ecco hai visto come bisogna studiare per arrivare perché per fare regista bisogna studiare soprattutto per fare regista ma scusami si studia beh si studia la regia si studia come mettere in scena una sceneggiatura come scrivere un soggetto come si posizionano le telecamere la macchina da presa non la telecamera la macchina da presa scusami scusami Lulù perché a te non ti piace studiare eh perché troppo tempo sprecato insomma tutti gli ospiti che ho avuto pure il mago ha detto che bisogna bisogna praticamente studiare ma insomma in ogni lavoro bisogna studiare ma spiegami un po' P.E.R. eh P.E.R. ma spieghi che bisogna studiare non ci si improvvisa in qualsiasi tipo di lavoro no? non ti puoi improvvisare bisogna avere dietro le spalle una cultura uno studio per poi arrivare agli obiettivi che uno si procura o no? eh certo tu che pensi Lulù? eh sì non lo so ho ancora le idee confute perché non so cosa fare da grande no perché ti vede un po' confusa senti Lulù ma oggi abbiamo il mago ti facciamo fare una domanda infatti volevo fare anche io una domanda a Pierluigi Pierluigi oggi è il tema è dedicato ai lavori ogni bambino magari da quando è piccolo sogna di fare un lavoro ora ti chiedo Pierluigi quando era bambino cosa sognava? questo ma già sei anni io già da piccolino io facevo mi ricordo allora con il mio parroco del paese con l'azione cattolica con la CR quindi sono cresciuto con i bambini a parte che io amo i bambini quindi il mio sogno era questo era quello di recitare di far l'attore poi gli obiettivi crescono volevo stare anche dietro una macchina da prese e cercare di portare una mia sensibilità però definirmi regista è una parola grossa e passare ancora l'acqua sotto i punti ah mica tanto però lo fai lo fai vuol dire che se fai film importanti tanti tanti stanno in tutte le sale cinematografiche vuol dire che sei bravo senti ma io ti faccio una domanda a te Lulù ma nel mio prossimo film ti va di fare un piccolo ruolo? oh adesso proprio che c'è troppo perché no? sì 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 mi piace tanto allora come è nata la professione di regista? come è nata? ma io nasco attore ho fatto una scuola importante a Roma piano 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 ho lavorato dietro le quinte con dei registi importanti che non voglio fare neanche i nomi perché sono troppo importante no 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 però era per capire veramente dietro le quinte e dietro una macchina di presa cosa si masticava cosa si doveva portare ma bisogna mangiare allora che c'era masticare non in quel senso scusa ma è una bimba di tre anni non riesce mi piace perché sei molto curiosa io amo le persone curiose e mi è simpatico eh sì 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 Pierluigi ti volevo chiedere eh sì sì molto è un po' così ti volevo chiedere qual è il criterio che usi per scegliere una sceneggiatura? ma guarda la sceneggiatura non ha il criterio di una sceneggiatura è l'idea prima si sviluppa un'idea e quest'idea cos'è la sceneggiatura? adesso ci arrivo adesso ti spiego perché sei perché ci sono i bimbi che ti guardano non lo so perché chi ci segue a casa oltre che a mano la sceneggiatura Lulù è come portare in scena un racconto una favola anche un disegno anche una favola sì ah ho capito hai capito è semplice molto semplice parliamo invece di casting Pierluigi ok ma quante domande c'ho oggi oggi stai qui non puoi fare a meno di ma vi facciamo vedere qualche foto sì sì intanto qualche foto arriverà però parliamo di casting Pierluigi quando capire che un casting è un blef o come capire c'è qualche domanda perché mi metti queste domande mi ha preparato la preside Viviana ma non avevamo dubbi Lulù guarda qui ma perché io lo chiedono tanto a lei quando si va a un cast si deve prima capire cosa è la produzione cosa è una distribuzione chi fornisce questo cast e dove si vuole andare con questo cast cioè non ci si improvvisa neanche su questo poi oggi su internet perché adesso oggi vai dovunque e poi ti vedi vado a fare un film vado a fare poi alla fine di contenuto non c'è nulla capito Lulù bisogna stare attenti perché ci sono un sacco di ciarlatani cianci cianci eccoci ma lo scusate scusate perché io ho una chicca qui io chiedo alla regia ma che bello una chicca guarda è una cosa bellissima una cosa particolare ma che bello che sono Lulù guardate anno 74 75 perché devi dire farlo leggere bene che bella questa foto guarda che bella guarda che bella foto e qui avevi già le idee chiare no qui non ancora ma ce n'ho ancora un'altra col grembiule qua l'anno è 56 56 guarda Lulù 56 vedi che sono con il mappamondo guarda il mappamondo ma non ci sono più nelle classi mappamondo infatti non ci sono più ma perché non ci sono più il mappamondo bisogna chiederlo a Renzi mappamondo 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 vabbè io volevo chiedere un'altra cosa a proposito di casting ma perché molte produzioni video si usano sempre gli stessi attori beh questa è un'altra domanda le avete preparato queste domande mirate no non è che si usano sempre gli stessi attori ci sono vanno io credo non è neanche a periodi però quando c'è una grossa produzione è per ottenere una grande distribuzione cerchi sempre un nome importante che ti porta anche a distribuzione questo si però io non sono molto favorevole a questo è importante che un attore è molto bravo ma io vedo che c'è quello che piace alla mia mamma alla mia nonna al mio soregno hai visto l'altro giorno Garco che sta da per tutto ma come mai perché Garco recita bene? sì nel suo genere sì perché no che genere è? sì ci si vedeva che si allungava troppo il naso Lulu qui lo vediamo con il grande Salemme Vincenzo grande Vincenzo carissimo amico vediamo qualche altra foto regia vediamo qui anzi qui ecco vogliamo ci vuoi raccontare è l'ultimo tuo lavoro se non erro sì è uno spot che ho fatto per la presidenza del consiglio per la cooperazione internazionale per il ministero presidenza del consiglio con Tognazzi il testimonial è Gianmarco Tognazzi allora prima abbiamo visto delle foto da bimbo ma Pierluigi da bimbo che bimbo era? allora Pierluigi da bimbo era un bimbo molto molto un po' si diceva faceva tanti uzzoli faceva un sacco di ricci e ne avevi bene a scuola? si molto studiavo si si molto ma non mi piace tanto sei così brava allora niente dietro la lavagna? no quasi mai mai ma faceva copiare perché sai che la cosa bella dentro la lavagna? è di un mondo diverso oppure anche fuori dalla porta allora ti racconto questa cosa io facevo copiare ma poi facevo il fatto io ti faccio copiare tu mi dai mezzo panino hai capito è barato è barato è barato ma c'era c'era qualche materia che magari detestavi? si una matematica è il primo io detestavo la matematica bravo però amavo scrivere amavo l'italiano non con la gli ma con la i con la l capito? con la l se molti dicono italiano 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 a proposito di italiano stai benissimo in questione quale film italiano ti sarebbe piaciuto girare? eh? eh che domandona da 100 milioni di dollari tutti i film di Monicelli tutti i film di De Sica tutti i film la storia la storia però lo devi dire uno che ha detto errore ma che brutto ma io non devo uscire ancora devo uscire no non si può mai dire che è un film brutto perché è soggettivo la cosa sai Lulù ognuno ha una sua idea e un suo pensiero ogni film ha un suo percorso ogni film ha una sua storia poi può piacere o non può piacere ci sono comunque anche dei film brutti eh? eh sì che io non ti dirò mai sì abbiamo qualche altra qualche altra foto eh questa 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 questo è con il grande maestro con il grande maestro in Abruzzo girato dal castello di Semivicoli da Masciarelle siamo grandi amici siamo tuttora ci sentiamo spesso senti un po' bimbo Pierluigi dimmi ma com'è lui come bimbo è simpatico un po' sai te i divi sono un po' adesso ti racconto questa cosa ecco guarda più si cresce più si è divi e più si e sono persone umili oh che bello questo è bello lui è una persona fantastica straordinaria bello beve un po' di vino un po' tanto eh beh gli piace gli piace un po' il vino soprattutto quello nostro il Montepulciano è ciocconi è ciocconi è ciocconi però ci piace ci piace se beve il vino della Bruzzo ci piace e anche a lui non piace tanto studiare questo me l'ha confessato quando era bambina mi piace mi piace intanto mentre parlate scorrono altre foto eccola qui questa ragazza che tu vedi vicino a me piace molto a Mariano ecco si è bellissima si chiama una mia amica si chiama Serena eh Serena è bella bellissima pure io sono sereno quando la vedo ecco lei la bellezza posso dirtelo da bimba perché noi bimbi guardiamo proprio mi piace perché è semplice si è napoletane è verace ma sono belle le napoletane si ma quelle lentigini guarda posso fare un appello devi farlo no no ma non si sa mai eh si mago si che diciamo allora beh io avrei un'altra domanda sono felice di questo invito però molto mi piace questa cosa bene bene parliamo un po' del futuro eh sì Luigi quale sarà il tuo prossimo lavoro te lo posso dire il milanese che vuoi sapere questo è non è proprio così eh lui è milanese se io sono di Milano non mi sembra eh infatti è fatti quale sarà il tuo prossimo lavoro se c'è io solitamente per scaramanzia non dico mai nulla però sto preparando il secondo progetto una storia molto importante è la storia di un transgender ci sto lavorando da un anno in sceneggiatura quindi ci siamo scusa c'è la domanda il treno gender eh come è un po' difficile adesso spiegarti è una persona normalissima sì come me molto normale come tu che ha delle idee diverse dalle mie dalle tue dalle sue allora siamo tutti così esatto sì vabbè ho capito più o meno più o meno è importante è una produzione molto molto importante con un cast importante però non dico nulla per scaramanzia bene siamo quasi allora non diciamo nulla però c'è siamo quasi alla fine e dobbiamo dare poi il voto eh vediamo se entra fa parte della nostra scuola o no però io voglio sapere se quando giocava perché adesso noi bimbi siamo sempre sul computer la mamma si arrabbia tanto perché anche se ho tre anni ho i miei giochini però mi diceva la mia mamma e la mia nonna che una volta si era più amici perché si giocava assieme ma tu qual era il tuo gioco che facevi con i tuoi amichetti al paese beh allora i classici giochini erano quello che salta la luna si faceva mi ricordo un due tre stella uno e due tre stella ma non la luna vera ma io ancora oggi faccio questi giochi ma come no che scherzo un due tre stella è bellissimo è quello che fai bravo è similiare un due tre stella bene e da piccolo e si studiava anche poco da piccoli perché non c'era fantastico sono andata in un periodo sbagliato purtroppo ma comunque Pierluigi da piccolo ti piaceva costruire visto che noi dopo abbiamo la fata fata giocosa che insegna a costruire tu da piccolo ti piaceva costruire molto io sono curioso quindi qualsiasi cosa ma non so scherzare io costruivo anche lo spot che ho girato adesso con i chiodi e col martello ho fatto le cose io ah stimola la fantasia stimola l'ingegno capito Lulù allora questo questo bambino bisogna sempre usare l'ironia sempre c'è sì c'è tu sei ironica eh cos'è l'ironia eh lo sapevo che mi facessi questa domanda adesso c'è tre anni c'è tre anni cos'è quando una bambina è simpatica tu sei simpatica spiritosa spiritosa sono io 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 sono Lulù io sono lui bene maestro vogliamo dare questo voto a Pierluvigi eh facciamo ma quanto soffigo io eh Lulù è meglio tanto e tanto senti io ti ammetto nella mia classe con e con un compito un bel diecellone brava però mi devi fare sempre ridere perché abbiamo il secchione quello che mi passa i compiti poi abbiamo quella bella bella che a me insomma non è che interessa vabbè pazienza poi c'abbiamo quello grosso grosso che mi passa il compito di italiano c'è tutto ecco mi manca un simpaticoni ecco un bel dieci e lode anche se che se non gli piacciono questi occhiali eh sì ti fa un po' strano sono belli sono belli sono belli e bambini a posto allora per me è ammesso Pierluigi di Dallo è ammesso alla scuola di nonuti grazie grazie e salutiamo tutti i bambini sì sì mi passa un attimo che è successo lo devi dire a qualcuno alla mamma sì mamma scusate scusate la telefona sì no le fate le fate con Piero mio amico con Piero sì fate tutte le passe poi mi piace ah grazie mi piace come pronunci Piero è Piero sì è un ero molto elegante allora cari bambini l'ora è finita vi salutiamo con Pierluigi di Dallo ciao ciao alla prossima e tutti da Fata Giocosa ciao 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 bambini hai capito che vai a fare tu ciao ciao bambini ciao 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 mago sì fatemi 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 più in là siamo così tanti l'unica che mi piace è la bimba Lulù infatti c'è tornata a salutare e poi la sentiremo cantare la bellissima Tania Aloisi Ciao Tania, ciao Tania, ciao Tania, sì va bene Allora Tania è bellissima, scusami Lulù però è un pochettino più bella di te, anche perché Tania ti... Certo che è a me, è una fattina giocosa, è sempre gentile, non mi regala la collana, mi dice che sono più brutta, complimenti, complimenti Allora, ecco, non ti guardo, non ci guardiamo, però Tania voleva fare una domanda a Lulù Sì vabbè, ma non ti guardo Non mi guardare, però ascolta che cosa ti deve chiedere Tania, Tania chiedi a Lulù Al fianzato Ma chi se la prende Lulù, Tania? Non dice così, fatina E c'è un bimbo che mi piace e quando mi vede e mi dà gli spintoni mi fa cadere, vuol dire che mi vuole tanto e tanto bene, almeno credo Ma non penso... Non è così? Non è proprio un comportamento... Ah, dici, ma chi no? Beh, no, no, se gli dà gli spintoni Tania che dici... Allora no, allora non mi piace più Anche Tania dice di no, però Tania, allora, prima mi ha detto all'orecchio una cosa molto interessante E cioè che la notte a casa di Tania vanno a trovarla chi? Io Oh, sì, la casa di Tania vanno gli elfi La cosa c'è? La casetta arancione? Di che colore è la tua casa? Gialla Gialla? Gialla, che si avvicina qua all'arancone Ma non c'è qualche cosa che non va, vabbè, non vi parlo più E comunque, allora, abbiamo pensato io e Tania che probabilmente tu sei arrabbiata con gli elfi perché tu sei innamorata di un elfo, vero Tania? Tania mi dà ragione Comunque, ok Non parlo più No, parliamo perché sempre l'altra notte nella mia casa e nel bosco, mago, sono arrivati, chi sono arrivati, Tania? Gli elfi, che arrivano sempre e insieme abbiamo costruito un regalo per... Lulù Così non ci rimane male E tutti insieme, pronta Tania, anche tu con le mani, mago ci sei? Magia, vai Tania, magia, 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 grande mago della fata, giocosa E con gli amici elfi abbiamo costruito un portatutto Che bello! Che bello! Lulù ti piace il portatutto? Sì, cosa porta di tutto? Può portare le forchette, questo io l'ho pensato come regalo per la mamma, da mettere in cucina perché ci possiamo mettere i cucchiai di legno oppure ci possiamo mettere le forbici Anche le posate Anche le posate Come sempre pare, raccorda la posate Allora, è semplicissimo, basta prendere Tengo io Sì, grazie Queste vaschette di polistirolo che nelle case troviamo sempre, magari contengono frutta, verdura, carne per chi la mangia E quindi prendiamo due vaschette di polistirolo, una la teniamo integra e l'altra invece la tagliamo a metà Una volta che la tagliamo a metà, la incolliamo È semplice È semplicissimo Naturalmente per rendere questo portatutto più simpatico e più carino ci possiamo mettere ad esempio una vecchia presina della mamma che magari non utilizziamo più Io ho scelto, visto che sta arrivando la primavera con gli elfi, questa con le farfalline Oppure ci possiamo mettere dei ritagli di stoffa, di tulle che troviamo nelle case Poi naturalmente io ho attaccato delle conchigliette perché l'altro giorno sono andata al mare C'è con gli elfi magari? No, sono andata a trovare la fata Fatulla che abita vicino al mare e quindi ho raccolto delle conchiglie E c'erano gli elfi di mare E c'erano anche gli elfi di mare Ma gli elfi sono dappertutto, soprattutto nei sogni di tutti i bambini, tranne a casa tua Lulù Comunque, e con un pezzettino di spago facciamo un nodino, un cerchietto, creiamo un nodino Lo mettiamo con un pezzettino di scotch dietro, vedi? E poi lo possiamo appendere in cucina ad esempio Così la mamma ci può mettere i cucchiai, le forbici e tutte le cose che servono per la cucina Adesso però voglio la musica, 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 musica Allora, musica, musica, musica Questa canzone che ci dedica la nostra bellissima Tania, come si intitola? La più bella Oh Grazie, grazie, me la dedichi a me Allora, la più bella, attenzione che prima mi ha detto una cosa ancora all'orecchio Tania Prima di tutto a chi la vogliamo dedicare? Alla mamma Alla mamma Alla mamma, va bene anche io E poi la dedichiamo? A me A Lulù? No, a me A Lulù un pochettino, vero? Sì Di più grande alla fatta giocosa E una parola E un pochettino anche a Lulù E poi mi sa che volevi salutare la tua cuginetta, vero? Che si chiama? Che si chiama la cuginetta? Carlotta Salutiamo Carlotta allora Allora cantiamo, cantiamo Cantiamo tutti insieme Sì, la più bella Allora, pronti? Partenza? Sì, e parte la musica C'è ancora l'ingenuità Quella ruga mi fa capire che in tempo mai non si ferma qua I capelli di argente e oro che in mare non ha bagnetto mai Quanta vita che passa dentro quegli occhi tuoi Sono come un acquillone con molto freddo ha portato via Dentro un uvole di canzoni che hanno cambiato la vita mia Vivi dentro un pochettino il cuore che non ti lascia dormire più Quattro voce per compagnarmi a buttare giù Mamma, tu per me sei la più bella Sei più bella giù in a stella E' solo tu che dai calore e tanto amore Regalandovi il tuo sole Per far luce nel mio cuore Perché sei tu che sei più bella la mia vita Sì, è ancora scortiva Come potrei sempre più averti qui C'è una man E' brava, è bella, è bella Tania, grazie Hai visto che è bella acuta Come si dice, è intonatissima È intonatissima Con quello lì, brava, è bravissima È brava la maestra Elisa Naturalmente con la nostra maestra E' proprio una fata bella, 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 bella E' anche più bella di casa E' anche più bella di casa Lo dobbiamo ammettere Ma allora Tania da grande vorrebbe fare la cantante No, inoltre il bambino è fare tanto No, inoltre il bambino è fare tanto No, inoltre il bambino è fare tanto Ma quel genere mi piace Che bello, che bello Questo infatti è proprio un bel lavoro da fare da grande Sì, bambini ci vediamo al prossimo blocco Lulù, alla prossima Ciao, ciao, ciao Ciao bambini Ciao Ciao bambini Ciao bambini dalla vostra preside Allora io le regalo questa volta questa penna Che è un pinocchio Grazie, pinocchio Perché io so che Lulù oggi dovrà scrivere una lettera a una signora, una bimba Che ha fatto qui le scuole E si chiama Fornero Ah, andiamo bene E ha visto che oggi si parla di lavoro Eh sì Ma soprattutto si parla di bambini Cosa volevano fare da grandi Io da grande ad esempio volevo fare la paracadutista Ah, io credevo la sognatrice No, no, la paracadutista Però i tempi miei non se ne parlava di fare la paracadutista E niente E che ha fatto E lei invece Io ho sempre sognato di fare il maestro Eh sì, sì, con quella faccia Vabbè, lasciamo stare Comunque attenzione con queste lettere Perché ci sono stati un po' dei problemini Qualcuno si è lamentato Ah, bene, bene Io ho sempre detto Comunque sono le lettere di Lulù E Lulù se ne assume la responsabilità Ah, bene, bene Noi scriviamo, scriviamo, scriviamo Certo Ci fosse stato il maestro Angelo Era un'altra cosa Che le baciava la mano Ecco, sono per questo Ma non è tanto perché baciava la mano Perché lui come si presenta Già che cravata è elegante Sì, con tutte le ragnatele Ma quale ragnatele Lei con questi occhialetti molto trendy Vabbè, io vado a salutare i bambini E lei se sa scrivere Perché lei è solo coi colteggi Arrivederci È proprio gelosa questa direttrice Perché solo perché non le bacio la mano Guarda, io non lo so Guarda Allora, intanto scriviamo con questa penna di Pinocchio E la dita Eccola E ciao Ti l'hai detto le prezzi Perché devo scrivere una lettere importante Importante alla bimba Fornello Già mi ha avvisato Fornero, no Fornello Vabbè, quella lì Fornero Perché l'altra volta ha saputo delle notizioni Poi ne ho parlato a casa E sono tutti rappiatissimi Papà, guarda È arrabbiato con quella bimba Con la bimba Fornero Sì, sì, sì Allora scriviamo Guarda, guarda con che scrivo Cicola lì Con Pinocchio Va bene? Oh, va bene Allora, dai Iniziamo Allora Come la apriamo questa lettera? È come il mio modo Senti un po' Bimba Fornero No, non si scrive Senti un po' Bimba Fornero No, no Ci sta bene Che l'ha detto anche il maestro Angelo Va bene Allora Signora Signora Solo signore Solo signora Signora Fornero Sperata che non prendi più i soldini Sto scrivendo? Sì, sì Mamma mia È vero È vera questa cosa C'è lo zio mio Tuo zio? Lo zio di mio? Sì Che non è andato Come si dice Come si chiamano Quelli che esodano Esodato È stato esodato È stato isolato È esodato Ecco E avevano detto Prenderà i soldi Adesso non prende ancora nulla Ancora nulla? Allora è proprio una bugiarda Sì, è una bugiarda È messa in difficoltà Perché lui Era sposato con tre figli Non riesce più a pagare il mutuo Poi ti portano via la casa Quindi bravo Ai 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 Poi mi chiedo Mi chiedo Sì Poi mi chiedo Perché tua figlia C'è già il lavoro? Eh, Lulù Lulù Non è giusto Eh, non è giusto Se ci sono persone Che da anni e anni Cercano lavoro e niente È il sistema Italia Sì, sì Purtroppo è il sistema Italia C'è due mie amiche Uno si chiama Angelo L'altro Mariano C'hanno 50 anni E non c'hanno lavoro Non è giusto Eh, non è giusto, no Non è giusto Non avrò nemmeno più io il lavoro Benissimo, benissimo Allora quindi Però non ho 50 anni io Sì, vabbè Di più Allora senti un po' Bimba Fornero Sì Finiscila State in una casa che è meglio Perché ci hai fatto tanti anni Non dire che invece non è così In Italia siamo tutti tristi Te lo dice una bimba Perché noi Noi bimbi lo vediamo dai nostri genitori Ti saluto perché sono gentile Ti saluto Perché sono gentile Perché sono gentile Ma non ti mando i baci Niente baci Ti mando i baci Ti spedisco la lettera senza franco bollo Così paghi tu la tassa No, no, la voglio pagare io Sì La voglio pagare io Perché non si merita nemmeno quello Guarda Allora facciamo così E bambini imparate Che se volete dire le cose Scrivete, scrivete Alla prossima E lo vogliamo dire Dove devono scrivere? Sì Allora ci scrivono a Via Potito-Randi Sì Otto A Teramo Sì Amici di Lulù E per l'Aumela E l'email Amici di Lulù Chiocciola gmail.com Beh bene Scriveteci Magari se c'è pure la Fornero Scrivete No, la Fornero Ma è meglio Lasciamola perdere Va bene Ciao bimbi Non serve a nulla Anzi È servita solo per rovinarci l'Italia Ciao 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 Ciao